I 172 anni della Polizia di Stato festeggiati qui a Crotone in piazza della Resistenza da parte della locale Questura alla presenza di sindaci, di comuni cittadini e altre forze dell'ordine abbiamo sentito il Questore Giambra che ci ha elencato un po' i tre anni della sua gestione nella Questura di Crotone e chiaramente l'impegno della Polizia di Stato sul territorio giorno e notte 172 anni, la Festa della Polizia, questo è il terzo anno che lei festeggia qui nella Questura di Crotone possiamo fare già un bilancio di questi tre anni e magari nello specifico dell'ultimo anno? Sì, intanto questa è la Festa della Polizia, è una giornata molto importante perché è una giornata in cui tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato rinnovano il loro impegno al servizio della collettività tre anni quasi di Crotone che sono stati per me molto impegnativi anche perché questa è una piccola realtà ma con tante problematiche, con tanti eventi importanti e anche tragici che si sono verificati e comunque sono molto soddisfatto e mi consentite di esprimere comunque il mio orgoglio per rappresentare tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato di questa provincia che nell'ultimo anno anche nell'ultimo anno si sono impegnati, hanno sacrificato la propria vita familiare i loro hanno profuso il massimo impegno per garantire la sicurezza dei cittadini per salvaguardare i diritti e le libertà che sono riconosciute Con il Presidente della provincia Sergio Ferrari che ci dà una notizia nuova ovvero l'istituzione di un commissario di Polizia di Stato nel comune di Ciro Marina Presidente, le amministrazioni locali naturalmente non possono mancare a queste manifestazioni oggi un appuntamento importante, la festa della Polizia Sì, le amministrazioni comunali e quella provinciale con gran piacere partecipano a questa festa è un giorno di festa di una istituzione, la Polizia di Stato con la quale si collabora quotidianamente con la quale ci sono ottime relazioni istituzionali e ottime forme di collaborazione A me personalmente è molto cara la Polizia di Stato perché da sindaco ho messo in campo sin da subito le attività per realizzare il primo commissario di Polizia della provincia di Crotone, abbiamo ottenuto dal Ministro il decreto di istituire il commissario di Polizia Ciro Marina, abbiamo già realizzato il primo lotto e sono pronti i lavori per poter completare l'opera e consegnarla alla Polizia di Stato con l'auspicio che possa partire il commissariato nell'anno 2026